Il Napoli è determinatissimo, è ritornato il Napoli delle Coppe, ci credete, abbiamo la Coppa Italia, la volete conquistare a tutti i posti? Sempre vogliamo questo, sappiamo che la partita è aperta, dobbiamo giocare questa partita nel nostro campo, sappiamo la qualità che c'è l'Inter, i giocatori che sono, dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita al campionato e dopo quando arrivi a questo ritorno dobbiamo fare come abbiamo fatto. La squadra è stata molto compatta, lei non è stato molto impegnato proprio forse perché la squadra è stata molto unita, molto compatta e la difesa è stata fortissima. Sì, penso che oggi abbiamo fatto un bel lavoro tutta la squadra unita, sappiamo che dobbiamo fare questo perché l'Inter sta facendo le cose bene, alla fine siamo contenti di farlo. Senti, ma vi siete chiesti perché non riuscite a essere concentrati, compatti e pratici così a che campionato? Una domanda quella, però al campionato vogliamo fare le cose bene, sappiamo che queste hanno fatto una stagione così facile, però abbiamo partita, abbiamo punti e dopo lo più importante è che abbiamo la qualità di una grande squadra. La prima cosa che dobbiamo continuare per questa strada, penso che dobbiamo continuare a lavorare in tutto questo e dopo dobbiamo andare partita tra partita, ora pensiamo in Cagliari e aspettiamo fare un risultato che è questa strada nel campionato. Grazie.